salutiamo a te camera ciao allora perché siamo qui? cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare una canzone della Befana la canzone della Befana? perché della Befana? perché qualcuno sembra una Befana e chi è questo qualcuno? lui io? ah sì? secondo te devo mettere gli occhiali? sì sì? sì io metto? no o metto io? sì ok metto io così sembro più una Befana ok adesso insomma uno due tre la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte il vestito della sottana viva viva la Befana facciamo un altro saluto ciao ciao eh ah